La Regione Toscana sostiene il sistema dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, lo fa attraverso un bando di oltre 4 milioni e mezzo di risorse, come annunciato stamani in Palazzo Sacratistrozzi, dall'assessore regionale Gianfranco Simoncini. 4 milioni e mezzo di risorse che serviranno e saranno destinate all'attività di trasferimento delle conoscenze e delle competenze scientifiche e tecnologiche al sistema delle imprese. In questa fase di crisi e di rilancio dell'economia è assolutamente fondamentale sostenere i processi di innovazione nel nostro sistema produttivo e è necessario che questo avvenga concentrando e non disperdendo le risorse. Quindi noi apriamo un bando per creare 12 poli di innovazione e soltanto su questi 12 concentreremo le risorse regionali. I 12 poli sono sulle filiere fondamentali del nostro sistema manifatturiero e chiediamo che all'interno dei poli siano presenti centri servizi, siano presenti centri di ricerca e obbligatoriamente insieme a centri servizi e centri di ricerca siano presenti imprese. La regione ritiene che il manifatturiero sia la leva fondamentale per rilanciare lo sviluppo della nostra regione accanto agli altri settori importanti come il turismo e il settore dei servizi. Però se vogliamo aggiungere occupazione e occupazione qualificata dobbiamo investire sul manifatturiero e questo lo possiamo fare soltanto se mettiamo a disposizione il nostro sistema, in particolare delle piccole imprese, centri che possono sostenere questi processi di innovazione. I poli di innovazione sono appunto per i 12 settori fondamentali del manifatturiero questo strumento. Grazie.